E' appena terminato l'incontro valido per il campionato nazionale Ander 21 tra Freestyle Bergamo e Metropolis Fuzz al Bergamo. E' qua con noi Matteo Fontana. Chiediamo lui un commento sulla partita. Ciao a tutti. A mio parere il pareggio è stato un po' ingiusto. Abbiamo aspettato troppo l'altra squadra, dovevamo pressarla di più. Infatti per quelle poche volte che l'abbiamo fatto abbiamo recuperato pallone e abbiamo avuto occasioni importanti. Nonostante questo c'è stato un pareggio, abbiamo anche rischiato dal punto di vista difensivo, li abbiamo lasciati giocare e abbiamo subito un po' due gol, un po' strani. Un po' per colpa della difesa, un po' per colpa del portiere, però in generale a mio parere abbiamo arrivato bene e il pareggio è un po' immeritato. Va bene, ringraziamo Matteo e diamo a lui un appuntamento alle prossime partite. Grazie, ciao. Passiamo alla parola da Andrea Zaccone e chiediamo anche lui un commento mentre vediamo il suo gol. Meritavamo la vittoria, sono spiegato tanti gol e alla fine va bene così, dai. Ci sta un po' da lì. Come stai vedendo la tua squadra in questo campionato che mantiene saldamente il secondo posto? Ah bene, sono saliti da un teleolo grigio e cerchiamo di arrivare ai playoff il più sereni possibili. Va bene, un bocca al lupo al proseguo del vostro campionato e salutiamo Andrea e tutta la sua squadra. Va bene, grazie. Ciao.